Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ma che cazzo ti fermi sulle curve? No ragazzi c'è il toro dietro, lo sento. Ah sì, Mad Max. Capo, ma nessuno è stato, abbiamo preso l'arancione fermo sulla curva. C'era una pianta, cazzo. No ragazzi, è inutile mi venite a scrivere in chat, bistecca di Dario Moccia. Dario Moccia fa le fettine panate, porco Dio. Nel tratto compreso tra le isole italiane di Ponza e Mistica, Vif fu coinvolto il volo di linea I-870 della compagnia aerea Itavia, partito dall'aeroporto di Bologna Borgo Panigale e diretto all'aeroporto di Palermo Punta Raisi. Nell'incidente morirono tutti gli 81 occupanti dell'aereo mobile, tra passeggeri ed equipaggio. L'ultimo messaggio registrato dalla scatola nera fu Una bambina senza braccia dice alla mamma, 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 posso cambiare vestito di carnevale quest'anno? E la mamma risponde, perché, non ti piace più il tuo vestito da ghiacciolo? Che bella questa sedia Gianmarco, sarebbe proprio un peccato se qualcuno provasse a romperla. Sembrava il continuo della barzelletta, sembrava precisamente il continuo della barzelletta, what the fuck? Magari cade il sushi a questo troglodeta. No, piano... No, capo, scusa. Stavi per uccidere. No, scusa, scusa, sì. Pardonna, ho capito, i miei so' alte. Se mi arrivava su un occhio veramente... Ciao, capo, Gigi per la Wiggle Benfica. C'è, poi veramente c'era la keg, porco Dio. Paolo Bort, c'è. Ciao. ciao stalloni un bacio grande ma soprattutto buona vita e mi raccomando fatemi fare sempre una bella figura e poi blur melo it 1080 devi strofinare ma che cazzo devo strofinare parco dio ma che devo strofinare ma che cazzo dici che devo strofinare ma sei scemo ma sei cretino no ma ho paura di toccare qualsiasi cosa è un fregno della madonna blur allora io ho un debole per i romani ho un debole per i romani e blur è un fregno quindi ti metto in s subito immediatamente non so se sia fidanzato non ne ho la più pallida idea non mi interessa però una s queste persone che non mi hanno mai visto dar vivo con due peli in testa faccia faccia di quello che dice no meme di quello che dice no con la capoccia utilizzo tecnica del 13 n si pesco subito la mia carta trillo di msn evoco a mura labirintica in posizione di difesa e lo accosto subito a bloccaggio sui social che mi permette di non avere mai più idea di quello che dice no 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 c'alla piatta calamaro calamarata ma che dice no me la stai appassati no calamarata è esplosa dopo calamarata è in mezzo esplodò sei te che stai con la mano così è esplosa dopo calamarata è esplosato là no biscotti buttati in fondo alla finestra e sbriciolati vicino alle formiche ha un retro gusto clamoroso è ottimo vabbè questo lo posso buttare che arrivano le formiche e poi mi dispiace ma li mortati ho detto dove lo posso buttà che se ti arrivi se te vengono le formiche mi ci dispiace pure lo sporco sì beh non è che sei sporco sei completamente zozzo è una barbetta eri pieno zeppo di merda parco dio vabbè sì ma manca manca che apro il sito blu che cazzo è il sito blu mo un messaggio registrato dalla scatola nera fu Giammo quando è che mostri la clip in cui lecchi i piedini del pinguino al pallone d'oro hai visto il nuovo film della roccia? Giammo cos'è quella cosa che è lunga ed è anche lunga? si esatto una tartaruga morta vabbè è al cappello lo devo andare peggio mi ricordavo ciao sfoccatura hai mai pensato a infilare il cazzo nel camino acceso e poi sbatterlo in bocca a Francesco Marzano? ma frate c'è ma ti rendi conto? nooo prima in classifica in serie B dimmi che il Perugia sta andando bene dai è sempre andato bene oh ternana ternana regina frusinone bari ma dov'è il aspetta zi se provo a fare una mossa allora eee frate sono tutte fregne sono tutte fregne dei tiktok ciao grazie amo per il ride tipo grazie poi ci sentiamo eh ci sentiamo dobbiamo fare un paio di balletti un paio di movimenti di spalla ok dai brusam dai non provarci con quella ragazza in chat lo sai sono le benvenute qui tipo adesso ci andiamo a vedere questo video si per lo più faccio reaction di merda ai video su youtube tanto è quello che vi piace quindi se vi va potete lasciare il follow mancano 15.000 follower al milione è il caso di catanzaro giammarco si si se mi piace se mi piace piercazzo assolutamente si se non mi piace piercazzo in bocca spore nuovo forse è un po' complicato davvero grazie a tutti